eccoci qua appena finito l'allenamento del secondo giorno già stamattina quando mi sono svegliato avevo un po di dolore specialmente ai dorsali e qua ai trecipiti all'attaccatura dei trecipiti con le spalle ho sentito un po di fastidi muscolari durante il breve riscaldamento che ho fatto prima di fare tutto l'allenamento ma ho continuato lo stesso non ero non ero particolarmente stanco rispetto a ieri più o meno avevo le stesse energie e la stessa forza dal punto di vista delle sensazioni sento come se tutti i muscoli stessero fossero gonfi stessero diciamo per esplodere parlo di sensazione ovviamente non di risultati estetici anche perché avere risultati in due giorni sarebbe bello ma non è così se avete domande riguardo questo allenamento o riguardo qualsiasi altra cosa chiedete pure possibilmente su youtube così vi rispondo lì oppure su facebook se vi ho tra gli amici ci vediamo domani per il terzo giorno bis are you listening iscriviti al canale 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 Oh 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 Grazie.